FALISCE PER UN METRO I ladri avevano percorso il tunnel sotterraneo nel torrente Castro dal ponte della Parata, 800 metri a piedi nella parte tombata fino ad avere il tesoro sopra le loro teste. Giunti sotto la sede della banca hanno scavato ma hanno sbagliato di un metro e sono sbucati in una zona del palazzo adiacente al cavo. Gli allarmi sensibilissimi, l'attenzione di un dipendente della banca all'immediato intervento dei poliziotti hanno determinato il fallimento del colpo. Sul posto si sono portati anche i vigi del fuoco con i mezzi SAF per coadiuvare gli agenti nel ripercorrere la strada che i malviventi avevano appena fatto. Adesso è partita la caccia, dietro di loro hanno lasciato molte tracce sia intorno al buco che all'inizio del loro percorso sotterraneo dove la scientifica ha sequestrato tutti gli attrezzi utilizzati in una sorta di cantiere che la banda aveva allestito. Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Arezzo.